Un saluto dalla redazione del Tg della Mobilità. È atteso per domani l'avvio del cantiere Acea in Via Flaminia, nel tratto compreso tra il Cavalcavia verso Via dei Due Ponti e il Civico 858 in direzione del grande raccordo anulare. Il cantiere, dopo un primo rinvio a causa del maltempo, è stato riprogrammato. Sarà da domani al 29 novembre. Per quel che riguarda la viabilità in quel tratto di Via Flaminia interessato dai lavori, il traffico verrà deviato su una corsia alternativa ricavata dallo sparti traffico. Inoltre sarà chiusa la corsia per l'inversione di marcia in direzione di Saxa Rubra. Per aggirare il cantiere, l'alternativa consigliata dai vigili è Corso di Francia verso Via Flaminia Nuova in direzione del raccordo.